Buongiorno a tutti, hello everybody, welcome back to San Leonardo. Today we are in the vineyards with Stefano, who will show us how we do the debuting. Oggi siamo nel vigneto, questo campo si chiama Campo Nuovo, che di nuovo non ha nulla perché è un vecchio campo, ma chiamato così, con Stefano, che ci mostrerà come si fa la scacchiatura, un'operazione davvero fondamentale. Questa operazione che facciamo una volta all'anno è davvero essenziale nel vigneto e avviene dopo la potatura. Serve proprio per pulire la vigna, togliere l'uva in eccesso e darle una fisionomia perfetta. Questa operazione è molto importante in order to clean the vine, in order to make her have less fruit, so that it's more concentrated and more tasty the fruit, and also to clean the vineyard so that it breathes well and it can grow well. È un'operazione appunto veramente delicatissima, ci vuole tanta esperienza, proprio per rispettare la fisiologia della vigna, in modo che i suoi canali linfatici siano ben rispettati e la vigna possa davvero dedicare le sue energie a quei tralci che rimangono. We are very careful to the physiology of the plant, so that the length that goes through the veins of the plant is dedicated to just the leaves that remain on the plant, so this is really essential. Qui in fondo poi vedete il borgo storico di San Leonardo, così vedete dove siamo, in questo campo che chiamiamo appunto il Campo Nuovo, ma di nuovo non ha nulla perché è un vigneto che ha quasi 35 anni. Questo è un vigneto che chiamiamo il Campo Nuovo, il nuovo campo, ma di nuovo non c'è nulla perché in realtà è 35 anni e questo è San Leonardo in the background, con il meraviglioso Montebaldo, che ci protegge dai venti troppo freddi e ci coccola in questa bella valle. E anche per oggi, dal vigneto di San Leonardo, da me e da Stefano è tutto. Speriamo che vi sia interessato vederci all'opera. Arrivederci.